Ecco ancora azione, rete, rete, la quinta rete, sempre a opera di Gianluca Malbone, doppietta per lui fino adesso 5 a 0, 5 a 0 il risultato, fino adesso il nostro capitano Teidi ha realizzato una doppietta e Gianluca la sua doppietta, fino adesso. Risultato parziale del primo tempo 5 a 0.